Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. La Sette che conteneva dei segreti della mafia e così, ma che come sempre succede tra due grandi uomini di Stato si danno dei giudizi e come ci era detto probabilmente Paolo Mieli è uno scemo, speriamo. Non fu una dimostrazione, scusate, scusate, ha fatto bene Paolo a ricordare quella telefonata, ma l'atteggiamento nei confronti della magistratura di Palermo che indagava in quel momento su cose importanti non fu rispettoso da parte di Napolitano che primo sentito dire rispettava i magistrati, no, non rispettava i magistrati, ha avuto sempre un motivo di contrasto e di polemica nei confronti della magistratura che cercava di fare il suo mestiere. Va bene, potremmo naturalmente andare avanti ancora molto a lungo, intanto pubblicità. Un gigante? Un gigante.